La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro appennino. Da qui nasce l'idea di questo programma, che umilmente vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in appennino. L'appennino è un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita. Ma è anche un investimento per i momenti difficili, questo vuol dire avere una casa in appennino. Inoltre è un modo questo programma per far conoscere quanto sia bello l'appennino che si trova a due passi da noi. Cerco casa in appennino è il nome del nostro nuovo programma, un appuntamento sulla nostra rete il venerdì sera in coda al Tg, alle 8 e 38 sul canale 88. Grazie a tutti! Grazie a tutti!